Ben trovati da Giuseppe Recca, oggi è martedì 27 agosto. Il Consiglio Comunale di Sciacca e l'amministrazione in carica hanno approvato ieri sera nel corso di una seduta consigliare un dettagliato ordine del giorno sulla crisi idrica, un documento che contiene tutta una serie di valutazioni di richieste indirizzate ad Aica e Ati e naturalmente anche alla struttura regionale che coordina l'emergenza idrica. Chiedono tra le altre cose alla Presidenza della Regione Siciliana di attivare il finanziamento per il rifacimento della rete idrica di Sciacca e il progetto è pronto ma non è mai entrato nei programmi di finanziamento comunitari e nazionali e inoltre di intervenire presso Aica per bloccare la selezione di nuovo personale. La consulta regionale degli ordini degli ingegneri ha lanciato un appello sugli aspetti tecnici e sui tempi del programma di interventi per la lotta alla siccità sollecitando l'attenzione del governo regionale e nazionale sui mancati investimenti per le dighe e per la distribuzione idropotabile nell'isola. Gli ordini professionali degli ingegneri sostengono che la siccità ha fatto emergere tutte le lacune ormai patologiche del sistema idrico siciliano. I magistrati della Procura di Termini Merese hanno interrogato a lungo il comandante del valiero Baesian affondato una settimana fa a Palermo. Si sta cercando di ricostruire la causa della tragedia che ha provocato la morte di sette persone. Il comandante Catfield ha ricostruito i momenti terribili del naufragio a risposto alle domande sulle manovre da lui adottate per contrastare la furia del vento e nonostante la sua esperienza in mare avrebbe dichiarato di non essersi accorto dell'arrivo della tempesta. Incidente mortale sulla statale Palermo Agrigento. Ieri pomeriggio all'altezza di Bolognetta. La vittima è un operaio di cefala Diana Salvatore Cangialosi di 43 anni. Viaggiava in sella alla sua moto in direzione Agrigento quando è stato centrato da una vettura che a caso di una manovra errata avrebbe invaso la corsia opposta. L'impatto è stato violentissimo. Cangialosi, sposato e padre di due figli, è stato sbalzato sull'asfalto finendo per essere ruotato da un autocarro che procedeva e che non è riuscito ad evitarlo. Vasto incendio. Ieri pomeriggio nella zona industriale Asi di Agrigento. Le fiamme hanno devastato un'area dove erano ammassati rifiuti a vecchi elettrodomestici in Contrada San Benedetto, territorio tra Agrigento e Aragona. Il fuoco in poco tempo si è propagato ed ha raggiunto nell'ambito la facciata esterna di un capannone di un'azienda. Le fiamme hanno carbonizzato inoltre rifiuti e vecchi elettrodomestici, soprattutto frigoriferi. È tutto per questa mattina. Grazie per averci seguito. Restate con noi. Buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.